il quarto passaggio è la filatura qui questo che si vede è il cosiddetto mescolo vale a dire dove la fibra sfilacciata rientra e viene mischiata per farla diventare più omogenea da qui entra in quel tubo dove viene aspirata per andare all'utilizzo. Qui è dove la fibra inizia ad essere lavorata entra in queste macchine dove viene realizzato il feltrino questa specie di bello di fibra che viene disteso e dopodiché la fibra. Lascio un po' di sottofondo per sentire il rumore delle macchie la fibra è davvero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il mantello, come si vede, come si vedrà qui da questi video, viene piegato e piegato più volte come a forgiare una spada giapponese. Piegate e piegate e forgiate più volte per rendere il mantello più omogeneo possibile. Grazie a tutti. 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 Dopodiché viene creato questo spago che è il penultimo passaggio per realizzare poi il filato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.